Finalmente, conclusa la costruzione del modernissimo centro polivalente di Darzo, si è voluto ufficializzare la realizzazione di una struttura sicuramente invidiabile sotto il profilo dell'utilizzo sportivo, intitolandola al Cavalier Carlo Maffei, fondatore dell'omonima ditta. Nella giornata di ieri, alla presenza di autorità politiche, amministrative e sportive, locali e provinciali, si è proceduto alla cerimonia dell'inaugurazione e della benedizione dell'edificio. Alle 11.30 è stata scoperta la lapide intitolata Carlo Maffei e successivamente, alla presenza di un numerosissimo pubblico, è avvenuta la presentazione ufficiale con i discorsi delle autorità. Hanno dato la loro adesione l'assessore Vigilio Nicolini in rappresentanza di un'autorità della provincia autonoma di Trento, il Cavalier Fiorindo Malfer, sindaco di Storo e presidente del comprensorio del Ciotto, il dottor Silvano Biasi, fiduciario alle attività sportive per la provincia, il dottor Franza, amministratore delegato della Maffei Monteorno, il ragionier Beltrami Renato, presidente della locale Cassa Rurale, Giovanni Rinaldi, promotore dell'iniziativa, Beltrami Giuliano, presidente della locale Proloco, nonché rappresentanze di enti e associazioni del comune di Storo. Una cerimonia semplice che non ha mancato di ricordare l'impegno di tutta la comunità d'Arzese nella realizzazione dell'importante impianto sportivo, costruito non solo per il ristretto ambito locale ma usufruibile da tutta la valle. L'opera costa di una struttura coperta di 1300 metri quadri, ospita due campi di bocce e un'area che può essere utilizzata da palestra, campo da tennis, sala da manifestazioni ricreative, culturali e turistiche. Il nuovo centro Maffei viene a completare così il già funzionale centro sportivo che poteva già disporre di tre campi da tennis e di un campo da calcio con pista di atletica operando un sicuro sprone all'attività sportiva della Val del Chiese. Le ardimentose travature in labellare sono un po' il tema tecnico dominante di questo moderno edificio che progettato dall'ingegner Giovannelli ha visto la sua realizzazione nell'arco di cinque anni con il notevole apporto di mano d'opera gratuita di tutta la comunità del paese di d'arto. Al termine della cerimonia di inaugurazione tutti gli ospiti sono recati nelle sale dell'hotel Castello Drone dove si sono intrattenuti per il prezzo. Nel primo pomeriggio la finale del torneo di tennis, una partita di bocce e un incontro di calcio hanno dato modo di apprezzare la funzionalità e l'utilità del nuovo centro.